e 5.000 denunce. Tra le proteste agli agricoltori anche i prezzi rincari dei prodotti agricoli e intanto volano i costi dei generi alimentari. Pensate, lo scorso anno le famiglie hanno speso il 6% in più per comprare il 3,9% in meno. Dal campo agli scaffali si registrano aumenti anche del 2.000%. Mentre le famiglie italiane per fare la spesa sono arrivate a spendere fino al 6% in più rispetto allo scorso anno, si allarga sempre di più la forbice tra i compensi degli agricoltori e i costi a cui poi vengono venduti i prodotti nei supermercati e nei negozi di alimentari. Ci troviamo nel mese di febbraio 2024 e questi pomodori ad oggi ci vengono pagati a noi agricoltori all'ingrosso tra un prezzo che varia tra i 70 e gli 80 centesimi al chilo. Come si spiega che poi gli stessi pomodori sugli scaffali dei negozi vengono venduti a un prezzo più che triplicato, tra un prezzo che varia tra i 3 euro e i 3,50 euro. Qui si parla proprio di speculazione. Tra i casi più eclatanti il latte, pagato alla stalla a 50 centesimi al litro e poi venduto a quasi 2 euro. Squilibri evidenti anche sulla produzione di olio. La molitura delle olive a 9,7 euro, l'olio sugli scaffali che raggiunge i 14. Pochissimi margini per i coltivatori che fanno sempre più fatica a coprire i costi di produzione che tra l'altro sono raddoppiati rispetto a prima del covid. È aumentato tutto, dall'energia al gasolio, dalle sementi ai concimi. Una situazione insostenibile per gli imprenditori agricoli che fanno i conti anche con le conseguenze degli eventi climatici avversi che mettono a rischio produzioni e coltivazioni. Lo scorso anno hanno fatto crollare la produzione di miele dell'80%.